Contagi Covid in aumento, l'ospedale Sant'Anna di Sanfermo della Battaglia si riorganizza. Riapertura di un secondo settore per far fronte ai nuovi ricoveri di pazienti e all'aumentata pressione in pronto soccorso. Chiusura temporanea della degenza medica 3 alle visite da parte dei parenti. Sono le disposizioni assunte oggi dalla direzione di ASS Tilariana per rispondere alla crescita dei casi che necessitano appunto di ricovero ospedaliero. raddoppiati in pochi giorni passando da 15 a 30. Oltre al reparto di malattie infettive che dispone di 15 posti letto, ne sono stati aperti dunque altrettanti nell'area che ospita la riabilitazione. Nel corso dei prossimi giorni l'unità di crisi Covid valuterà ulteriori disposizioni. Per quanto riguarda invece la degenza medica 3, a seguito degli screening periodici che ASS Tilariana effettua sia sui pazienti che sui dipendenti, sono stati riscontrati dei casi positivi, tutti asintomatici e pertanto il reparto è stato temporaneamente chiuso a nuovi ricoveri e sono state sospese le visite dei parenti, oltre alle previste procedure di sanificazione messe in atto. La chiusura è stata disposta già a partire da questa sera. ASS Tilariana, si legge nella nota diffusa, si scusa per eventuali disguidi che i parenti dovessero riscontrare, fermo restando che il personale cercherà di avvisare tutti. È necessario mantenere alta la guardia, sottolinea il direttore sanitario Matteo Soccio, e serve la collaborazione di tutti nel rispetto scrupoloso e prudente delle norme di comportamento. E altresì importante, aggiunge, procedere con le vaccinazioni. L'anno scorso avevamo in questo periodo più di 300 pazienti Covid ricoverati nel solo Sant'Anna e la differenza di quest'anno conclude è tutta dovuta alla scrupolosa campagna vaccinale.